Benvenuti su Ultimora Gossip TV. Prima di iniziare ti invitiamo ad iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere costantemente aggiornato. Un gesto semplice ma per noi significativo. Grazie! Big Mama, la talentuosa cantante, ha recentemente partecipato al programma televisivo Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Durante l'intervista Big Mama ha fatto una rivelazione importante, ha presentato al pubblico la sua fidanzata Maria Ludovica Lazzarini. Le parole di Big Mama nei confronti della sua compagna sono state dolci e appassionate, emozionando i suoi fan. Ma andiamo oltre, Big Mama si è aperta a tutto tondo, condividendo anche episodi dolorosi della sua vita. Da bambina ha subito bullismo e non è mai stata magra, addirittura le tiravano le pietre. A soli 16 anni ha vissuto un trauma ancora più profondo, una violenza sessuale. In quel periodo non si parlava apertamente di questi argomenti, ma grazie al supporto di persone che avevano vissuto esperienze simili, Big Mama ha trovato il coraggio di affrontare i suoi ricordi. Fortunatamente la vita è cambiata. Nel corso dell'intervista Verissimo ha parlato con Gioia della sua relazione con Maria Ludovica Lazzarini, una talentuosa cantautrice originaria di Carrara. Maria Ludovica è stata anche la coautrice del brano La rabbia non ti basta, con cui Big Mama si è estribita al Festival di Sanremo quest'anno. L'amore tra le due è palpabile, Big Mama ha dichiarato di essere innamoratissima e di sperare che questa sia la relazione definitiva. È la sua prima vera ragazza e lei è la sua. La felicità che hanno trovato insieme è unica e magica. In conclusione, Big Mama e Maria Ludovica vivono insieme una storia d'amore autentica e appassionata. Come dice Big Mama, il loro rapporto è stato costruito mattone dopo mattone. Se ti è piaciuto questo video mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanella e se ti va lascia un commento. Grazie!